Sì, salve, buongiorno, sono Matteo Scozzarella, sì, io sono Crespo, li dica, è Faggiano al telefono, Faggiano, sì, sì, sono io, sono io, io, buonasera signora, sono Alessandro Lucarelli, piacere, guarda che io ce l'ho dappertutto, è in casa, mi fa piacere, è un grande uomo, è un campione Validà del Parma, avevo piacere a farle tanti auguri, come sta? Sì, insomma, non ci vale, siamo in casa, siamo tutti in casa, lo so E poi, mi manca il Parma, però, se lo metti così, non mi capisco Quello ci manca a tutti, ma piano piano torneremo alla normalità, sicuramente Chiamavo per sapere un po' come va, come se la passa, se è tutto bene, se le manca il Parma, se fosse così Eh, va tutto bene, basta stare in casa e non muoverci Non me ne aspettavo, subito, sapi, 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 pensavo che erano gli scatti telefonici che fanno No, no, non ci credevo, che mi chiamavano a scoprire Non è il primo, non è il primo che dubita la telefonata, però è vero e appunto volevamo, siccome è, sappiamo che siete abbonati, venite allo stadio a vedere le partite, volevamo fare un augurio speciale di buona cosa Guardi, è strantissimo, mi sta dando una soddisfattura immensa Faccia gli auguri ai nipotini, alla moglie, a tutti, va bene? Grazie, grazie, mi ha convosco, grazie Grazie a voi, grazie a voi, gentilissimo Grazie a voi Un abbraccio, un abbraccio vero, spero quando, se mi vedete allo stadio, se ricominciamo, mi venga a salutare, che ci tengo, va bene? Davvero, eh, ci tengo, un abbraccio Salve Grazie a voi Grazie a voi La ringrazio tantissimo, becco di voi No Becco di voi La ringrazio tantissimo, l'augurio del nome, lo che poteva capitare Grazie a lei, Anna Maria, tanti auguri a lei e alla sua famiglia, un abbraccio da parte di tutto il Parma Calcio e vi auguro una buona Pasqua e che la passiate in famiglia e con tanta serenità chi è che parla? mio fratello quanti anni ha tuo fratello? come si chiama? sei Alessandro wow che meraviglia ciao Alessandro ciao Alessandro bene io ti auguro una buona Pasqua è stato bello parlarti grazie forza Parma sempre forza Parma è una cosa buona questa hai fatto una bella cosa allora le faccio tantissimi auguri di buona Pasqua sperando in questa bella notizia grazie grazie buona giornata forza Parma un saluto a tutti ciao ragazzi